Allora, facciamo a Don Umberto il compito di poter benedire la struttura. Io invoco l'aiuto a chi l'ha fatto, risponde per i suoi lavori. Fermo prima. Ecco, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amén. Divochiamo la benedizione del Signore in quest'opera che, come tutti i ponti, serve per collegare, per legare le persone e garantire la sicurezza di tutti. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo, Dio Onipotente, Padre di Misericordia, che tutto è creato per mezzo del tuo Figlio e fatto di Lui il fondamento incrollabile del tuo regno, benedici questo ponte a gloria del tuo nome per il bene di tutta la nostra comunità, fa che cresca di giorno in giorno con l'aiuto della tua providenza fino alla pienezza della realizzazione della vita. Per Cristo nostro Signore, amén. Signore benedica questo ponte nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amén. Grazie, grazie Don Umberto. Dico due parole e poi tagliamo il nastro insieme. Chiedo anche che siano i cittadini di Raccano poter tagliare con noi il nastro perché è un'opera che è stata importante in quanto attesa da tempo. A marzo si era certificato attraverso uno studio l'aperizia dell'ingegnere Pozzato incaricato dal Consorzio di Bonifica, che è qui rappresentato dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Direttore e che ringrazio di cuore per la collaborazione, che a questo punto aveva subito delle lesioni pesanti e siamo stati costretti ad abbassare la portata del manufatto a due tonnellate. Questo creava indubbiamente problemi ai cittadini residenti dall'altra parte del Pozzo, 14 famiglie che hanno avuto problemi con i fornitori, tutti quei materiali, legna e combustibile che servono a case che oggi non sono servite dai metano e pertanto hanno anche questo tipo di problema. Abbiamo cercato di valutare la soluzione più adeguata ovviamente sempre concordemente con il Consorzio di Bonifica rispetto a quello che poteva essere la sistemazione definitiva di questa struttura e abbiamo fatto la scelta di collocare un manufatto in acciaio prefabbricato sopra la struttura esistente per riportare la portata di questo ponte a un passaggio significativo che è quello delle 7 tonnellate e mezzo rispetto alle 4 che era prima del passaggio del ponte. Come vedete la struttura è stata realizzata, i tempi sono stati un po' più lunghi di quelli preventivati anche per una serie di problematiche, per necessità di esami, di indagini geologiche, di supporto di questa struttura però oggi insomma nel giro di 6 mesi siamo riusciti alla fine a consegnare la struttura e la struttura è pronta per essere inaugurata e per permettere poi il passaggio ai cittadini e ai fornitori rispetto all'altra parte che è la sfonda destra del poazzo. Io ringrazio i cittadini per la pazienza perché quasi tutti sono stati estremamente prodighi di collaborazione, di supporto a volte qualche protesta c'è stata però la possiamo anche capire perché insomma il problema c'era le tempistiche in qualche modo si allungavano e forse non tutti credevano che avremmo fatto questo investimento. Questo investimento in realtà si è fatto, ha impegnato oltre 50.000 euro di risorse dell'amministrazione comunale però ripeto sempre d'accordo con i consorzi di bonifica e permette oggi insomma la piena di spiegamento di questo passaggio e consente finalmente ai cittadini della sfonda destra di avere quelle risposte concrete che erano necessarie. L'ho detto così paradossalmente, questo ponte ha fatto più parlare in questi sei mesi in cui lo stavamo sistemando che negli 8-10 anni precedenti in cui c'erano certificati alcuni problemi. Oggi però noi siamo contenti e orgogliosi di poterlo consegnare alla comunità e sono contento che le autorità che sono qui con me possano condividere questo momento importante e atteso insomma. Quindi questo è un ponte che le risorse dei cittadini di Polesella consegnano alla comunità e ai cittadini di Polesella che avevano avuto questo problema. Io ringrazio tutti per la vostra presenza e insomma vi invito a poter tagliare con me il nastro, ovviamente il Presidente del Consorzio di Bonifica, a Don Umberto, a Pietro Giusto che è nuovo comandante della stazione dei Carabinieri e comandante ma anche i cittadini di Racano che vorrei che fossero con me in questo momento perché il ponte è soprattutto per loro che sono stati quelli che hanno pagato maggiormente i dati e poi qualche sera generale. Quindi ci possiamo avvicinare così volentieri, grazie. Il direttore, il vice, il cittadino qualcuno di Racano che venga con me a tagliare perché... Passa di qua che tagliamo, no, no, vieni a tagliare insieme così... Possiamo tagliare? Tagliamo volentieri, ecco qua, è perfetto, oggi questo ponte unisce e non divide più.